Ben trovati, per anni ho scritto e ho parlato nei venerdì, ma non soltanto nei venerdì, dello scandaloso clientelismo all'alto calore, un clientelismo scandaloso dimostrato dai fatti, da tanti fatti, le promozioni così un po' immotivate, per cui quasi da uscire si diventava dirigente, promozioni di tutti i tipi, sia nel settore tecnico che amministrativo, stipendi favolosi, appalti sui generis, consulenze che manco ve li immaginate, consulenze agli amici, agli amici degli amici, come si dice, ai nipoti, anche alle amiche, per carità, giusto così, per pari opportunità, anche alle amiche, ai nipoti, insomma, ad abbundanzia. Ebbene, quando scrivevo e parlavo di queste cose, e l'ho fatto fino a qualche mese fa, per la verità, ed è il caso che si ricominci a farlo, chi minacciava querele, chi si limitava a storcere il naso, chi prometteva fulmini e saette, chi non mi rivolgeva più la parola, e per la verità non me l'è mai fregato più di tanto. Ora, il titolo, il primo titolo di questa puntata del venerdì, è un virgolettato, le porcherie clientelari dell'alto calore. Chi ha usato questa espressione, secondo me, ha ragione molto veduta, è il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Lo ha fatto, sottolineando con forza, porcherie, e ripeto, secondo me ha fatto bene, perché in due parole, porcherie e clientelari, ha riassunto una realtà che io, ma non soltanto io, per la verità, io ed altri colleghi, coraggiosi colleghi, abbiamo scritto per tanto tempo. Il fatto che lo abbia detto il presidente della Campania, non soltanto ha una valenza molto importante, perché non è il giornalista che sta contro, come se io stessi contro qualcuno, non sto contro nessuno, per la verità. Diciamo che sto dalla parte non della verità, perché nessuno ce l'ha la verità, come si dice, ma dalla parte di chi la verità la cerca, di chi si avvicina alla verità, descrivendo le cose e documentandole. Ma il fatto che, lo abbia detto oggi il presidente della Campania, oggi, qualche giorno fa, questa settimana, non ha fatto stoccere il naso a nessuno, nessuno lo ha minacciato di niente, soltanto la CGL se n'è uscito con un'espressione del tipo quando denunciavamo noi certe cose, la CGL non ha denunciato un bel niente, la CGL tutt'al più ha ripetuto le cose che noi giornalisti, pochi per la verità, scrivevamo e dicevamo sull'alto calore. Ma il fatto che l'abbia detto il presidente della Campania, cioè la massima istituzione della regione, non soltanto non ha avuto reazioni sgarbate, smodate, eccetera, no, c'è stato un silenzio di tomba. L'unico che ha parlato, perché intervistato da noi, è stato l'attuale amministratore unico dell'alto calore, Michelangelo Ciarcia, il quale, dobbiamo ricordarlo, non è che poi sia nuovo all'alto calore. Michelangelo Ciarcia all'alto calore c'è stato da un bel po' di tempo, con veste diverse, per carità, senza le vesti della responsabilità che ha oggi e che ha da qualche tempo. Dire che Michelangelo Ciarcia abbia potuto fare porcheria all'alto calore significherebbe dire una cosa semplicemente falsa, perché Ciarcia non le ha fatte le porcherie. Le porcherie le hanno fatte tanti altri. Le porcherie le hanno fatte chi l'alto calore lo ha governato per decenni. Le porcherie all'alto calore le ha fatte la politica. Poi potremmo anche scendere un po' nei dettagli, nei particolari. Potremmo anche andare a verificare chi all'alto calore o con l'alto calore ha potuto raggiungere anche, come si dice, livelli di vita abbastanza importanti. ma questo è un altro aspetto. La cosa veramente importante è che l'alto calore è stata certamente una fabbrica di clientelismo smodato ed è stato tutto clientelismo politico. Politico. Cioè la politica, o meglio la malapolitica, si è servita per anni, per decenni dell'alto calore per fare tante cose. La prima cosa che ha fatto è stato l'ottenere il consenso elettorale. Tanti dipendenti, tante famiglie, tanti voti in più. La seconda cosa che ha fatto, l'ho detto prima, è stato di affidare le consulenze agli amici e agli amici degli amici, ai nipoti, alle amiche. E l'altra cosa che ha fatto ancora è stata quella di affidare gli appalti quando ha potuto, a chi ha voluto. Ora, se dovessimo risalire la corrente dell'acqua trattandosi di alto calore, ci ritroveremmo a dover parlare anche dell'alto calore delle tangenti. Ma quella corrente l'abbiamo già risalita tante volte, l'abbiamo raccontata, quella corrente, quando c'è stato lo scandalo delle tangenti all'alto calore è roba vecchia, urte tutto, è roba, sarebbe il caso di dire, sepolta. Ma il problema qual è? Il problema è che l'alto calore o all'alto calore non sono stati fatti danni di spreco, di danaro, di clientele, eccetera, ed è finita lì. Ecco, se fosse finita lì non ci sarebbe più storia, non saremmo manco più a parlarne. Il problema è che tutte quelle porcherie clientelari, come le ha chiamate De Luca, giustamente, io mi ero così limitato a dire scandalo vergognoso di clientelismo politico, ma porcherie clientelari, devo dire la verità, mi piace di più, è più forte, è più incisivo, è più immediato. Tutto questo sarebbe storia passata se non incidesse sul presente. E come incide sul presente? Con le cose che vi abbiamo raccontato ancora venerdì scorso. E cioè, incide sul presente perché l'alto calore con tutte le porcherie che ha fatto si è trovato sull'orlo del fallimento, la procura della Repubblica ha chiesto il fallimento dell'alto calore e per questa condizione i sindaci, che non abbondano in coraggio, perché i sindaci sono i soci dell'alto calore, della società pubblica l'alto calore, i sindaci irpini e un po' di roba sanità anche, i sindaci, per paura del fallimento, non hanno dato in gestione, non hanno, cioè deciso, l'affidamento in gestione all'alto calore o a qualsiasi altra società, per cui stiamo, per il requisito fondamentale dei bandi, ad esempio, del PNRR, non abbiamo potuto ottenere i soldi del PNRR, fino ad ora abbiamo perso due finanziamenti, uno di 80 milioni, l'altro di 34 milioni, per questa ragione. quindi porcherie clientelari che hanno portato a questa conseguenza, ecco perché è storia attuale, ecco perché non stiamo andando a disturbare i sepolcri, no, è storia attuale, cioè tutta quella robaccia, tutta la gestione clientelare dell'alto calore, oggi ci impedisce di avere i soldi, ad esempio, per fare, per rifare le reti idriche con la Brodo. C'è un danno infinito che continua, signori, il problema, sapete qual è? È che la politica per questi guai, per questi danni, quando dico la politica, dico i politici di quella politica, nessuno di loro ha pagato. Questo è il punto. Allora, non ci possiamo non trovare d'accordo con De Luca, il governatore, magari se l'avesse fatto anche un po' prima sarebbe stato meglio, ma forse ha voluto avere in mano tutte le carte necessarie per poter valutare e dire porcherie clientelari. Ha fatto bene, vogliamo però sperare che ci sia qui un punto e non da capo, un punto e andiamo avanti, cioè andiamo a vedere da oggi in poi come ci si comporta per rimediare se è possibile rimediare. Ma dicevo di Michelangelo Ciarcia, lui non ha alcune responsabilità, però il fatto che Michelangelo Ciarcia dica, commentando le parole del governatore, dica, come ha detto, il governatore ha ragione, quindi Michelangelo Ciarcia certifica, dice, sostiene anche lui che all'alto calore sono state fatte le porcherie clientelari. È però santa miseria, io dico, a Ciarcia, che è una persona per bene, per carità, è l'amministratore per carità, ma santi Dio, ma se è a conoscenza delle porcherie clientelari che sono state fatte e deve esserne a conoscenza per forza, si dice De Luca ha ragione, perché se non è così vuol dire che la sua affermazione non è altro che un inchino a De Luca e questo non può star bene, caro Ciarcia, perché gli inchini non si fanno né al governatore De Luca né a nessun altro, nemmeno al Presidente della Repubblica si fanno gli inchini, di fronte a certe situazioni c'è un'altra arma, c'è l'arma della denuncia. Signori, c'è una omertà non soltanto rispetto alle azioni della camorra, c'è anche una omertà istituzionale che è addirittura più pericolosa quando non si denunciano cose misfatti di cui si è a conoscenza. Ma noi attendiamo fiduciosi che in qualche modo anche qui si possa trovare i colpevoli, anche qui si possa dire non mandati in galera qualcuno, ma che qualcuno possa pagare sapete quale prezzo? soltanto il prezzo politico, nel senso che certe facce in politica non dovranno più comparire né quelle che direttamente hanno fatto certe cose né tantomeno i complici oppure i figliastri di quelle porcherie clientelari. Il secondo argomento Michele, penso che non arriveremo a quattro, ci fermeremo a tre oggi. Il secondo argomento com'è il titolo? Ah ecco, è un titolo un po' bello forte no? Una fabbrica di asini è il titolo che ho fatto volontariamente una provocazione nel telegiornale di ieri giovedì per chi ci ascolta questa sera in prima battuta. Una fabbrica di asini e si riferisce alla scuola in Campania, al sistema regionale Campania che voglio precisare subito non c'entra la regione istituzione sistema regionale Campania ma dove la regione non ci azzecca niente riguarda il numero di scuole riguarda la preparazione degli insegnanti riguarda le attrezzature che abbiamo a disposizione riguarda la dispersione scolastica riguarda tante cose che non ci azzeccano con la regione istituzione. Ebbene in Barsi non è una cattiva parola in Barsi è l'istituto nazionale per la valutazione dei sistemi del sistema educativo e della formazione nazionale e poi anche regionale nel senso che questo istituto fa una valutazione regione per regione. Io non voglio portarla per le lunghe dico soltanto quello riprendo soltanto le cose che abbiamo detto nel telegiornale di giovedì che hanno riportato i giornali naturalmente non perché fosse stato il nostro scopo per carità i dati in Barsi sono dati pubblici i giornali hanno ripreso quei dati pubblici noi abbiamo ripreso la notizia e poi l'abbiamo sviluppata naturalmente secondo il nostro stile cioè secondo le informazioni che tenevamo ampliate con dichiarazioni con commenti eccetera ora qual è il problema serio qui ci sono due problemi il primo la Campania insieme a un po' il resto del sud è la regione che come sistema di educazione e di formazione educazione scolastica la Campania è in fondo proprio in fondo in fondo in fondo alla classifica insieme alla Sardegna insieme alla Sicilia naturalmente insieme alla Calabria eccetera pensate che i nostri studenti specialmente quelli delle superiori non riescono a superare il livello base dell'italiano della conoscenza dell'italiano pensate che per quanto riguarda la matematica siamo ancora peggio cioè otto studenti su dieci non ce la fanno per la lingua inglese manco a parlarne siamo a livelli decisamente scandalosi tanto che gli esperti di invalsi hanno definito la condizione della Campania una catastrofe educativa che stiamo inguaiati io ho titolato provocatoriamente la fabbrica degli asini il nostro sistema regionale come fabbrica di asini soltanto per dare l'immediatezza ecco la provocazione forte di un fatto molto molto grave perché signori fino a quando si è ciucci per sé certamente non è un fatto positivo ma è un problema limitato a una persona quando l'asineria la ciucciaggine diventa collettiva cioè diventa sistema parliamo di ciucciaggine del sistema educativo attenzione allora diventa un problema diventa un problema serio perché è tutto il sistema poi economico sociale che ne risente e ne risente la capacità di trovare lavoro perché le offerte di lavoro vengono fatte anche in base a determinati parametri un manovale per fare un esempio con tutto il rispetto per il manovale che non abbia letto manzoni o che comunque no non si esprima in italiano corretto un manovale che parla in dialetto napoletano avellinese mirabellano eccetera non fa danni e comunque non è quello che può essere ostativo quella difficoltà essere ostativa della sua capacità di trovare lavoro ma quando cominciamo ad un livello quando andiamo ad un livello leggermente più alto succede quello che stiamo vedendo difficile è difficile trovare lavoro perché le offerte di lavoro sono in qualche modo parametrate anche a determinate capacità saper parlare in italiano farsi capire perché qui con il livello base che abbiamo significa non farsi capire nemmeno attenzione diventa un problema serio così per la matematica ancora di più se volete per l'inglese in una regione come la Campania come le altre regioni del sud che si candidano ad essere regioni di attrazione turistica e voi ve li immaginate arrivi il turista a Napoli oppure ad Avellino visto che il sindaco di Avellino mi pare che stia puntando tutto sul turismo tanto da voler fare concorrenza ad Amsterdam a Copenaghen queste fandonie sue però ammesso che fosse vero se il livello anche di conoscenza dell'inglese cioè se non stessimo in una condizione di catastrofe educativa intesa in questo senso io anche se dovessero arrivare i turisti ma quelli non tornano più per fare un esempio così se volete anche un po' non banale ma giusto per intenderci e allora come la mettiamo noi abbiamo avuto la visita questa mattina chi mi ascolta venerdì sera del ministro dell'istruzione bianche il quale è una persona per bene una persona di grande espressore culturale e però è uno che si arrampica un po' sugli specchi a me dispiace dirlo ma ha detto qualche sfandonia di troppo non so se perché non fosse stato informato dai suoi collaboratori non so per quale ragione ma ha detto ad esempio che certamente una verità l'ha detta e cioè che il problema delle prove invalsi catastrofiche per gli studenti della Campania questo problema si fa risalire è un problema antico è verissimo ecco però rispetto a questo problema antico il ministro dell'istruzione non può limitarsi a dire il governo sta cercando di mettere mano a questo handicap così vagamente e aggiungere poi ecco qui la fandonia che non a caso il governo sta recuperando terreno rispetto a questo problema non a caso la Campania è la regione che ha avuto più soldi e no non è assolutamente vero purtroppo qualcuno si è preso la briga di pubblicare la ripartizione delle risorse perché questo fatto questo dato si ricollega poi alla sanità si ricollega a quello che De Luca dice purtroppo inascoltato è una voce che grida nel deserto ormai io devo chiedere al governatore già che è una persona anche amica devo dirgli non gridare più nel deserto hai l'effetto contrario state zitte può darsi che se ti stai zitto tu su questa storia per non farti dispetto se ti stai zitto per non farti dispetto cioè per non contraddirti ci fanno altro ci danno i soldi allora la Campania ha avuto nella distribuzione delle risorse ha avuto eccola qui un milione 990.714 euro un milione 900 due milioni di euro la Campania fa 5 milioni e 900 mila abitanti signori la Lombardia che fa 10 milioni cioè fa il doppio della Campania se la ripartizione fosse stata equa cioè tanti abitanti tanto ad abitanti tanto si dà la Campania la Lombardia chiedo scusa avrebbe dovuto avere avendo il doppio degli abitanti della Campania avrebbe dovuto avere 4 milioni 4 milioni di euro 1 milione e 9 per 2 4 milioni di euro la Lombardia è buona è brava anziché 4 gliene diamo 8 ma vogliamo proprio premiarla perché la Lombardia è la Lombardia gliene diamo ancora di più il doppio del doppio gliene diamo 16 niente affatto signor Ministro la Lombardia ha avuto la bellezza di 66 milioni e 800 mila euro rispetto alla miseria data alla Campania di 1 milione e 990 mila euro allora come vogliamo metterla questa roba ma le altre regioni più piccole della Campania il Piemonte più piccola della Campania 22 milioni Trento addirittura Trento 7 milioni la Sicilia 17 il Lazio 14 che è un po' più grande della Campania 14 milioni insomma ci hanno trattati lasciatemi passare l'espressione a pesci in faccia il famoso tiff il trattamento ittico-facciale ci hanno fatto un trattamento ittico-facciale alla grande con grande maestria allora io dico ecco perché abbiamo una classe dirigente politica in questa regione fatta pace di qualche anima Pia e in questa provincia in modo particolare una classe dirigente del tutto inadeguata perché nemmeno di fronte a queste cose riesce ad avere l'orgoglio il coraggio il buon senso l'onore di farsi sentire di battere i piedi di prendere i forconi perché a questo punto siamo se non prendiamo i forconi ci manca pure insomma arriva il magistrato che mi denuncia o mi vuole sentire per isticazione a delinquere no i forconi simbolicamente per dire ci avete rotto le scatole però per fare questo dobbiamo farlo rispetto ai nostri rappresentanti istituzionari c'è questa categoria dello spirito che non serve a niente che fa soltanto chiacchiere continuano a fare chiacchiere è un problema molto molto serio anche perché questa ripartizione di risorse per la scuola fa il paio con la ripartizione delle risorse per la sanità il criterio è sempre quello e quel criterio non viene cambiato perché c'è un motivo scientificamente pensato cioè il criterio della spesa storica e poiché storicamente noi abbiamo avuto sempre meno risorse dall'unità d'Italia in poi ma forse anche prima ma dall'unità d'Italia in poi avremmo comunque essendo l'Italia una e unita avremmo dovuto avere lo stesso trattamento del centro nord no poiché storicamente ci hanno trattati a pesci in faccia si sentono oggi in diritto addirittura questi hanno il diritto di buttarci i pesci in faccia siamo a questo per la sanità succede questo e per la scuola succede questo ma che cosa non abbiamo dovuto attendere per fare un esempio per entrare in cantiere per avere tra qualche anno l'alta velocità Napoli-Bare la Napoli-Roma è arrivata dopo che nell'Italia del nord l'alta velocità c'era già da qualche decennio poi siamo arrivati noi Napoli-Reggio-Calabria cioè andando verso giù perché il problema non è soltanto della Campania il problema è del sud c'è una nuova questione meridionale che non viene purtroppo affrontata o viene affrontata a chiacchiere ma senza manco più la forza di idealità che hanno avuto alcuni nostri antenati questo è il punto ed è un punto molto molto serio il punto è talmente serio che poi e passiamo all'ultimo argomento terzo ed ultimo Michele terzo il quarto non riusciamo a farlo il terzo ed ultimo che si intitola come si intitola primo cittadino di Avellino ma ultimo in Italia il suole 24 ore che non è il giornale della parrocchia accanto dico parrocchia per dire insomma parrocchia non c'è tanti fondi tanti giornali una parrocchia qualsiasi la potessi permettere di fare un giornale con studi con centro studi importanti che elaborano i dati no questo può fare il suole 24 ore e il suole 24 ore ogni anno fa queste classifiche di gradimento dei sindaci ma non le fanno alzandosi la mattina quelli del suole 24 ore incaricando un'agenzia specializzata in queste cose la mattina facciamo un dispetto al sindaco di Avellino facciamo una cosa mettiamoci in questa graduatoria in questa elaborazione di classifica giusto perché gli vogliamo male perché lui è vittima delle nostre disattenzioni o delle nostre morbose attenzioni e mettiamolo ultimi in graduatoria primo cittadino di Avellino ultimo sindaco in Italia allora da questa classifica che il suole 24 ore fa ogni anno è risultato che il sindaco di Avellino insieme a quello di Lecce di Siena quindi sono in tre sono ultimi in questa graduatoria stanno a fondo della classifica per gradimento cioè il gradimento ed è il gradimento attenzione non di una giuria inventata dal suole 24 ore non di una giuria tirata a sorte no la giuria dei cittadini di Avellino un sondaggio di quei sondaggi fatti con i controcavoli no con tanti riferimenti con tanti elaborati sondaggi elaborati anche perché signori ma parliamoci ma perché il suole 24 ore dovrebbe avere poi la cattiva volontà nei confronti del sindaco di Avellino tanto da doverlo mettere in fondo classifica non c'è non c'è questo e però di fronte a queste cose di fronte a queste verità a queste verità dette dai cittadini il gradimento di un sindaco detto dai cittadini avellinesi io credo che un sindaco con un poco 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 di buon senso con meno brillantina in testa e più idee buone idee un sindaco qualsiasi direbbe caspita probabilmente direbbe non sto facendo al massimo quello che vorrei fare quello che potrei fare ecco un sindaco responsabile un sindaco che avesse la capacità di guardare la realtà direbbe questo e correggerebbe i suoi comportamenti amministrativi si interromcherebbe insieme ai suoi collaboratori sentite cos'è che non va magari facciamo tutto e i cittadini non lo percepiscono anche soltanto questo ma non si può sfuggire al giudizio dei cittadini il giudizio che poi elaborato dal sole 24 ore ha portato a quel risultato non si può sfuggire a quel giudizio dicendo ma no io do una lettura diversa di queste cose non sto in fondo alla classifica o anche se ci sto sono comunque il migliore questo è il punto il problema non è attenzione del sindaco di Avellino l'ho citato come esempio come esempio eclatante come esempio paradossale di smarrimento della capacità di guardare alla realtà è questo che manca abbiamo una classe dirigente politica e amministrativa in questa provincia un po' confusa ecco mettiamola così voglio essere buona al massimo leggermente confusa e allora prendetevi il caffè fatevi una canna fate qualcos'altro sciatatevi perché non c'è proprio più tempo da perdere stiamo andando a fondo a venerdì prossimo grazie a tutti grazie a tutti